Noi eleggiamo quattro vicepresidenti della Camera e normalmente nelle legislature se ti va bene ce n'è uno che sa effettivamente condurre i lavori parlamentari e spesso e volentieri gli altri fanno un po' di fatica un po' non conoscono i regolamenti, un po' non sono rapidi, i tempi parlamentari hanno anche dei tempi molto morti ecco voi dovete sapere che quello che sta per salire qua sopra è il vicepresidente della Camera dalle quali labbra noi pendiamo dalla mattina alla sera perché è l'unico obiettivamente che sa gestire l'aula con padronanza, conoscenza e anche con un po' di divertimento. Ettore Rosato Grazie Bobo e tu sei l'unico che mi fa impazzire quando intervieni Grazie, 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 sono tanto contento di essere qui oggi e sono qui oggi prima di tutto a dirvi grazie guardate la politica è passione, la politica è impegno e la politica è fatica, tanta fatica e voi lo sapete e fare politica in Italia viva diciamoci la verità è più faticoso che farla da altre parti e voi lo sapete lo sapete perché la fatica non è quella di stare qui io penso che stiamo trascorrendo tre giorni meravigliosi e consentitemi di ringraziare così veramente tutti i volontari che consentono questa fantastica Leopolda sono eccezionali e non stanno qui tre giorni e ci lavorano da tanto tempo ma consentitemi di ringraziare anche l'anima della Leopolda che non se ne voglia Matteo ma è Maria Elena che questa Leopolda da tanti tanti anni la sa animare con il sorriso, la pazienza la pazienza con tutti noi, la costruzione giorno per giorno ieri io ho ascoltato un momento di grande fatica della politica perché guardate lo provo a dire con parole semplici dopo qualcuno le strumentalizzerà ma non fa niente sentire un leader come Matteo che la politica in questo paese l'ha cambiata che ha cambiato l'Italia che è riconosciuto in giro per il mondo che ha segnato un pezzo della nostra storia anche recente dover discutere per un'ora e mezza dei suoi sms con gli amici dimostra la fatica della politica e guardate lo ha fatto per noi perché colpo su colpo bisogna avere il coraggio di rispondere colpo su colpo bisogna avere il coraggio di rispondere e lui lo ha fatto per noi perché la dignità della politica è quella di non buttare in cacciara le cose ma di affrontarle a viso aperto e io di leader politici che affrontano le cose a viso aperto così non ne ho visti tanti non ne ho visti tanti e la fatica della politica si vede anche su questo ieri abbiamo assistito a una grande lezione di fatica della politica e grazie anche per la fatica che avete fatto durante le elezioni amministrative ve lo voglio dire perché sono state faticose sono state faticose per tutti noi sono state faticose per la costruzione delle alleanze sono state faticose per l'impegno sono state coronate da tanti tanti successi molto più di quelli che ci hanno riconosciuto ma abbiamo eletto tantissimi consiglieri comunali sindaci sono stati nominati tanti assessori li abbiamo tanti qui alcuni li abbiamo ascoltati in queste giornate e io penso che queste elezioni amministrative ci hanno insegnato qualche cosa ci hanno insegnato che c'è bisogno di tirare fuori molto orgoglio anche da parte nostra e possiamo farlo con grande determinazione perché vedete noi abbiamo messo tanta pazienza in queste elezioni amministrative la pazienza di voler costruire una coalizione ho salutato prima Isabella con il suo bell'intervento e guardavo la pazienza che ci ha messo lei in queste elezioni amministrative ma è mai possibile che dopo quello che ha fatto per il centro-sinistra dopo la passione che ha messo nella campagna delle primarie lo sforzo per essere unitari in campagna elettorale dopo il Movimento 5 Stelle che ha preso la metà dei suoi voti a un assessore e noi no ma vi sembra possibile ma vi sembra ragionevole ma vi sembra ragionevole che in Calabria il centro-sinistra abbia messo tre candidati uno più perdente dell'altro di seguito senza neanche farci una telefonata e pensando che noi dovevamo votarli così perché l'hanno deciso loro io penso che noi abbiamo messo molta pazienza in campo alle elezioni amministrative e penso che questa pazienza ci debba insegnare che alla pazienza dobbiamo rispondere con grande orgoglio perché da questo palco l'hanno detto tutti siamo alternativi a Conte siamo alternativi a Lameloni siamo alternativi a Salvini ed è vero ed è vero perché questo ci accomuna tutti tutti quelli che siamo qui non c'è chi la pensa in maniera diversa ma dobbiamo sapere che se siamo alternativi a questo se facciamo l'alleanza a Napoli con i 5 Stelle non è che ci dobbiamo vergognare poi che a Melfi andiamo con un pezzetto di centro-destra non possiamo farlo perché se no non vuol dire che non siamo alternativi e questo lo dobbiamo tenere a mente perché c'è un bipolarismo nelle elezioni amministrative e la legge sui sindaci quella che piace a noi francamente che volevamo e vogliamo portare anche a livello nazionale e se a livello nazionale le dinamiche possono essere diverse perché fortunatamente possono essere diverse ho ascoltato anche le cose che dicevo Elena adesso qualche minuto fa ma sulle elezioni amministrative dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo fare l'interesse delle città l'interesse delle regioni le cose che poi ognuno di noi quando si parla dei comuni, delle proprie case ognuno di noi c'ha in mente ecco penso che questo ci abbia insegnato tanto peraltro fatemi fare un piccolo spot adesso personale io vengo fuori adesso dieci giorni fa da diciassette giorni di covid dico questo perché poi al di là della politica ne abbiamo sentite tante c'è una cosa che mi sta a cuore e penso che noi e io ho vissuto questa cosa che molti di noi ci sono passati con la consapevolezza e la gratitudine per la scienza una grande gratitudine perché naturalmente abbiamo affrontato il covid siamo qui a discuterne con la protezione del vaccino con la protezione dei medici con la protezione di chi ci ha voluto bene allora ogni giorno che facciamo politica anche quando andiamo in trasmissione quando facciamo ognuno di noi deve avere sempre una consapevolezza portiamo un messaggio portiamo un messaggio di gratitudine ai medici ma portiamo un messaggio personale alle persone che ci sono vicine vaccinatevi portiamolo questo messaggio noi qui abbiamo una responsabilità che è personale non è solo una responsabilità del paese ognuno di noi deve portare questo messaggio a chi ci sta vicino vaccinatevi scusate se ho fatto questo intermezzo ma mi è venuto in mente guardando come è stata diversa questa Leopolda rispetto alle precedenti perché le precedenti c'era qua tutta una roba che uno sopra l'altro ed era francamente era bello ci stavamo in tanti e oggi siamo distanziati tutti peraltro devo dire che questa Leopolda è stata ordinatissima un senso di responsabilità di ognuno di noi straordinario ma noi vorremmo tornare alla normalità vogliamo tornare alla normalità e c'è gente che normale non è perché c'è gente in questo paese che normale non è che non sta qui io sono di Trieste guardate ci hanno fatto delle torture infinite la gente è anormale noi dobbiamo aiutarla con la santa pazienza di prenderli uno per uno e allora torno al mio intervento ma questa cosa qui ve la volevo dire pensando poi e torno sulle questioni delle elezioni amministrative che vedete poi c'è una cosa che a me personalmente è un po' stancato è quella dell'esame del mio DNA ogni giorno c'è un giornalista che legittimamente fa il suo lavoro ci mancherebbe viene vicino e ti dice ma tu sei di centrodestra o di centrosinistra non so se capita anche a voi dalle vostre parti a me lo domandano tutti i giorni e io farmi fare l'esame del DNA da chi nel 2019 voleva andare a elezioni con Salvini voleva andare a elezioni con Salvini nel senso che con Salvini stava organizzando le elezioni anticipate perché gli conveniva perché Zingaretti aveva i suoi interessi di cambiare le liste di cambiare io non ci sto più a farmi fare questo esame del DNA da loro io non ci sto più e rispondiamo con l'orgoglio che basta gli esami del DNA perché noi giriamoci un po' indietro guardiamo la strada che abbiamo percorso ma noi abbiamo cambiato idea sulla giustizia no io facevo i miei colleghi facevamo la battaglia insieme a tutto il PD contro la prescrizione modello buona fede tutti la facevamo insieme adesso sono loro che hanno cambiato idea non è che siamo noi che abbiamo cambiato idea il riformismo lo continuiamo a portare avanti noi non loro sul reddito di cittadinanza facevamo Zingaretti usava parole più dure delle nostre di oggi contro il reddito di cittadinanza adesso se lo sono bevuto se lo sono bevuto durante la pandemia se lo ricorda bene Luigi Maratin noi abbiamo dovuto combattere contro l'idea che lo Stato doveva entrare nel capitale sociale delle società che avevano difficoltà di liquidità invece di dargli i soldi ma perché non entriamo nel capitale sociale di una bella azienda di Treviso che fa tondini di ferro così ci mandiamo un funzionario dello Stato che gli insegna come vendere tondini di ferro in Giappone ma noi abbiamo fatto delle fatiche micidiali per cercare di tenere la barra del riformismo dritto e adesso vengono a fare l'esame del DNA noi noi dobbiamo su questo essere intransigenti questa cosa qui non può essere tollerata nel silenzio di chi invece il riformismo lo pratica ogni giorno guardate il la fatica di Ivan Teresa Elena Elena ha ricordato che se n'è tornata a casa dopo essersi dimessa per trovare un episodio simile nella politica italiana bisogna risalire al 1990 per i cultori della storia governo Andreotti sesto quando Martinazzoli Mattarella e altri tre ministri della sinistra democristiana si sono dimessi in protesta politica per la legge sulle frequenze televisive dal 1990 al 2020 episodi così non ci sono mai stati quindi noi la mano tesa verso il PD per cercare di non farsi travolgere dal populismo e dalla demagogia dei 5 stelle l'abbiamo tesa nel modo più doloroso possibile soprattutto per i diretti interessati e durante la crisi abbiamo il PD aveva una grandissima occasione di alzare la testa e di dire basta al governo del populista Conte troviamo anche con la stessa coalizione gli abbiamo detto ma troviamo una soluzione per mettere in campo un progetto vero per il paese che stava soffrendo non è stato possibile hanno eletto Conte leader della sinistra ma voi pensate che abbiano cambiato idea oggi? Cioè c'è qualcuno qui dentro che pensa che il PD abbia cambiato idea? Avete qualche segnale che vi dica che il PD ha cambiato idea? Io non ne ho io non ne ho quindi possiamo continuare a dire che nel centro sinistra è la nostra casa ma figurati io sono io quella casa me l'hanno distrutta io quella casa l'ho costruita insieme a tanti di voi a tanti di noi che vengono dal PD quella casa l'abbiamo costruita e Matteo ha reso quella casa quando era segretario la casa vincente la più forte centro-sinistra in Europa dopodiché questi l'hanno distrutta perché adesso si riprenderanno D'Alema e Bersani e cosa pensate che fanno con D'Alema e Bersani i riformisti allora basta perché altrimenti diventiamo anche noi un po' come loro se qualcuno ha nostalgia tagli il cordone ombelicale perché il cordone ombelicale non ce lo possiamo permettere più e guardate non è che ce ne ho solo del PD perché non ho niente da dire sulla Meloni e su Salvini quelli non sono mai stati in casa mia non c'ho niente da dire perché a quelli non sono mai stati in casa mia e non saranno casa mia ma io mi arrabbio contro quella che era casa mia l'hanno trasformata in una baracca con rispetto lo dico una baracca politica non ho un grande rispetto per quel partito io ho rispetto per il PD anche per le scelte che fanno se decidono di prendere un'altra strada e di inseguire la taverna e di inseguire Bonafede e io rispetto ma non è la mia non è la mia e cosa dobbiamo fare noi? costruirne un'altra di casa dobbiamo costruirne un'altra di casa una casa forte vera faticosa perché lo sappiamo una casa aperta una casa europea una casa europea qui ci sono venuti ospiti tante delegazioni di paesi europei in questi due giorni anche cioè siamo onorati di questo nel senso che li ringraziamo veramente sono venuti qui ad ascoltarci per costruire con noi un percorso e la casa come deve essere guardate io la definisco così è la casa di chi si riconosce nell'esperienza del governo Draghi non come conseguenza faticosa c'era la crisi o Draghi o elezioni meglio Draghi no noi siamo convinti che Draghi sia una personalità di un'autorevolezza straordinaria a livello italiano ed europeo che questa maggioranza così coesa poco ma così etereogenea molto ma così efficace perché questa maggioranza è efficace alla fine sia quello che serve in un momento di crisi come questo allora chi si riconosce chi vede in questa strada in una leadership naturale del paese dell'Europa di Mario Draghi con noi può fare un percorso insieme e ognuno arriverà con le sue forze noi ce ne abbiamo tante lo dico con orgoglio ma serve allora non serve più Italia Viva no serve più Italia Viva serve di più serve che noi ci organizziamo meglio serve che siamo più bravi più capaci più capillari serviamo ancora di più poi ognuno arriverà col suo leader c'è una differenza profonda tra il segretario e il leader i leader non li eleggono nessuno non li elegge nessuno i leader non li elegge nessuno ma abbiamo eletto Matteo segretario ma noi non abbiamo bisogno di eleggere Matteo Matteo non è un leader perché lo ha eletto qualcuno Matteo è un leader perché ha cambiato la storia della politica italiana è una cosa diversa e quindi chi è il leader di questa area ognuno mette in campo le sue carte ognuno giocherà la sua partita tutti con generosità noi siamo i più generosi di tutti dopodiché vedremo decideranno gli elettori chi ha la leadership noi un leader ce l'abbiamo e io voglio chiudere su questo fare questi mesi sono stati faticosi sono stati faticosi ma per me sono stati bellissimi sono stati bellissimi l'esperienza che abbiamo saputo vivere insieme perché nella fatica anche nella difficoltà noi abbiamo costruito un partito durante il covid mentre sui giornali si parlava solo dell'inchiesta di open questa è la sintesi del nostro percorso degli ultimi due anni questa è la meraviglia che tutti voi siete qui oggi la meraviglia che abbiamo un partito radicato in ogni provincia italiana è sintetizzato in questo perché non solo perché tra di noi c'è amicizia affetto c'è anche con le persone che sono qui con quelli che stanno nel gruppo parlamentare ma perché ci siamo ritrovati su un progetto politico perché ci siamo ritrovati intorno su un progetto politico e allora questo progetto politico era ed è quello di costruire una casa alternativa ampia europea abbiamo la possibilità di farlo contro i populismi e contro la demagogia non perdiamo l'entusiasmo che è stata sempre la nostra forza non perdiamo l'amicizia che lega tra di noi non perdiamo la voglia di dare una mano al nostro paese buon lavoro Ettore Rosato grazie Ettore grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti